Senti un po' Frank, i tuoi amici dicono che ti sei fidanzata. Cioè non ho avuto proprio un rapporto sessuale. E cosa hai avuto? Da toccarsi e baciarsi. Cioè? Quella mia amica lì era venuta qui a casa mia. Mentre giocavamo gli spiegavo che cos'è il rapporto sessuale. Capito? Cioè che provi piacere, che provi bene, che provi l'amore, che provi... Tutte le provi insomma. Cioè pensi delle cose fuori dal normale quando fai l'amore. No? Giusto? Allora lei ha detto se provavamo. Giusto? Allora io ho accettato. E siamo andati dentro alla collina. E dopo ho finito la registrazione te lo farò vedere. Vuoi vederlo? Allora abbiamo cominciato a baciarsi. No? A baciarsi abbiamo cominciato a toccarci. E provevamo del bene. Dopo abbiamo finito e io gli ho chiesto se era stato bello. E lei mi aveva detto che non aveva mai provato una cosa simile, no? Giusto? Giusto? Allora gli ho detto che sono molto felice. Lei e anche lei. Dopo siamo andati lì e abbiamo giocato continuamente. Però eravamo più felici, cioè eravamo più contenti, giocavamo più bene. Ma perché i bambini non si possono baciare e toccare quanto vogliono? Ma non lo so, forse perché provano timore. Oppure non vogliono i genitori. Oppure perché non possono capire i genitori il bene di una bambina o di un bambino. Prova a spiegare. Hanno bisogno i bambini e le bambine? Allora prova a spiegare questo bisogno. Eh sì. Allora mi spiego con le mie parole. Dai. I bambini hanno bisogno del bene come i grandi, no? Perché i bambini sono degli esseri umani come tutti, no? Sono degli esseri umani però più piccoli. E invece i grandi si ammazza. Beh. Come quella guerra lì. Quale guerra? Tra l'Inghilterra e Fiorentina. Una guerra... Stupida. 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 Per due isole. Per due isole. Io avrei fatto una a te e una a me. E vai fanculate. No? Invece anche ieri due aeroplani dei jet che costano 3 miliardi. Ma io non li spendo di jet. Io li spendo per fare una bella vita. 3 miliardi io li spendo per fare una bella vita e non per fare la guerra. E sai che bella vita faresti con te? Ma... Comprerei una casa. Un campagna. Ok. Con una piscina. Con una casa da lavorare. Con la mia ragazza andiamo in piscina. E stiamo lì. Fino alle 7. Poi veniamo in casa. Facciamo la doccia assieme. Ci laviamo assieme. Cioè... Lei mi lava me. Io la lavo lei. Dopo mangiamo. Guardiamo la tele. E andiamo a letto. E a letto facciamo l'amore. Questa è la bella vita? Eh? Questa è la bella vita? Per me sì. Anche per me? Non so per gli altri. Io la scuola la vivo un po' male. E perché? Perché non ne ho voglia. Come vorresti che fosse la scuola? Beh... Si studiare. Quello lì si studia. Però dopo... A giocare. A giocare. Tutto il giorno a giocare. E invece? Eh... Parlami della scuola. Come la vivi tu? Invece è... È così mogia. Si studia sempre. Ci sarà mezz'ora di ricreazione. Nel pomeriggio ce n'è un'ora. Cioè... Non è molto... Precisa nelle sue cose. E poi... La scuola è una cosa... Da stare in gabbia. Cioè non... La scuola non puoi vivere. Non puoi... Giocare. Non puoi fare l'amore. No? E allora... Per me la scuola è una gran cazzata. Cioè... Poi... Sai... Quando... La maestra ti chiama... Cioè... Fa una cacchiata. Perché uno magari non ha studiato. Gli dà la notta. Cioè sono robe che nella vita non c'entrano. La notta. Quelle cose lì non c'entrano. Vicino alla vita c'entra l'amore. Il bene. La gioia. La felicità. Scoprire la vita. A urlare... Cioè... Voglio vivere. Voglio essere libero. Vai in Cina. Vai in America. Vai negli Stati Uniti. Vai in New York. Tutte le parti del mondo... Così puoi scoprire... Che nel mondo ci sono delle altre... Cioè... Delle altre... Modi diversi da pensare. Perché secondo te... I bambini vengono trattati in un modo così... Strano dagli adulti? Come se fosse la scena. Perché i bambini... Gli adulti credo che i bambini... Non siano buoni da fare niente. Invece? Invece magari... Se vogliono i bambini... Sono superiori dei grandi. Perché hanno un modo diverso da pensare. Immagino le cose... Più belle. Più pure. No? Invece i grandi... Ho malizia lì. Come te. Ho malizia lì! Poi. Poi. Grazie a tutti